In poche ore i carabinieri risolvono il caso della donna aggredita il 28 dicembre sulla spiaggia di Termoli, arrestando un giovane nigeriano accusato di tentato omicidio, violenza sessuale e rapina. Vediamo i dettagli. I carabinieri hanno voluto spiegare le circostanze di un fatto di cronaca che è iniziato il 28 dicembre 2020 e si è concluso nel giro di meno di 20 ore con l'arresto del responsabile di un'aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Erano all'incirca le ore 17 appunto del 28 dicembre lo scenario e la spiaggia di Termoli nei pressi della foce del Sinarca quando un uomo, un nigeriano di 38 anni, ha di fatto sequestrato una donna che stava facendo una corsa. L'uomo ha tentato la violenza carnale e alle urla della donna ha prima tentato di strangolarla e poi l'ha colpita con un coltello al collo ferendola gravemente. La reazione della donna ha evitato fasi più drammatiche. I carabinieri nel giro di poco meno di 20 ore sono riusciti a identificare, a rintracciare e ad assicurare alla giustizia questo soggetto che era armato è pericoloso. Tutto ciò grazie all'intuizione di un carabiniere che ha, con un'associazione di pensiero, ha ricollegato questo soggetto ad un luogo dove lo aveva visto qualche tempo prima. Permettetemi di rivolgere un plauso a questi carabinieri che quotidianamente gravitano sul territorio e proteggono i cittadini. All'occorrenza sanno rintracciare nel loro archivio ogni ricordo che può essere utile alle indagini. La donna ha avuto dai sanitari una prognosi di 20 giorni, mentre l'uomo, già con specifici precedenti, è stato accusato di diversi reati, tra i quali il tentato omicidio, la violenza sessuale e la rapina, il sequestro di persona e la resistenza.